Tutt'altro che un vampiro invece, il meraviglioso ospite che questa mattina, come dire, ci racconterà un progetto molto molto bello a Torino del prossimo 23 aprile. Eccolo qui, grazie ad Andrea Bertelli in collegamento con noi che traffica con il suo telefono. Ciao Andrea, buongiorno. Ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, mi vedete? Sì, sì, eccoci qua. Allora, sentirete delle voci perché Andrea Bertelli è un meraviglioso libraio di Torino che insomma da queste parti conosciamo anche molto bene, la gang del pensiero, perché vogliamo ovviamente, è sul posto di lavoro in una dinamicissima libreria, per farci raccontare un progetto molto bello. Perché martedì prossimo è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore e torna una nuova edizione anche di Torino che legge. La libreria, la gang del pensiero è molto attiva da questo punto di vista perché ha anche un gemellaggio, adesso ci faremo raccontare meglio, da Andrea Bertelli, un gemellaggio con San Giordi, insomma, rispetto a questa festa dei libri e delle rose. Intanto Andrea, ancora grazie per aver accettato l'invito, benvenuto ad almeno due pagine al giorno. Ci racconti in realtà cosa succede il 23 aprile, non soltanto a Torino ma in realtà nel mondo, in questa bellissima giornata mondiale del libro. Esatto. Parte tutto da Barcellona, come stavi dicendo, da questa festa che in Catalogna è una cosa enorme, nel senso che le librerie escono e vanno in strada, occupano la città nella giornata mondiale del libro che è proprio il 23 aprile e pensa che loro hanno come vendite in un giorno quello che fanno in una settimana di Natale. Accidente. C'è proprio tutta la città e la caratteristica che ha reso famosa questa festa è che c'è il dono della rosa, nel senso che chi acquista un libro viene donata una rosa. È una cosa che si ripeterà anche in tutte le librerie che aderiscono a Torino che legge quest'anno. Quindi questa festa nasce da questa idea di San Giordi e poi si sviluppa. Ogni città la declina come vuole. A Torino appunto ci sarà Torino che legge e quindi tutti i luoghi della lettura, le biblioteche, le scuole, le case del quartiere, davvero tutto il tessuto del territorio cittadino è animato da questo spirito di festa in cui si organizzano una marea di iniziative, di letture, di presentazioni, in cui il libro è al centro di tutto. Intanto per chi volesse approfondire, per chi fosse poi dalle parti di Torino anche la prossima settimana, soprattutto martedì, su torinochelegge.it c'è un programma molto denso diciamo in cui è coinvolta anche la gang del pensiero, ma intanto però questa forma di amore fortissima che voi esprimete da sempre diciamo nei confronti della lettura del libro e che vi fa realizzare anche questo bellissimo gemellaggio con San Giordi, insomma vi porterà anche, leggevo anche tra l'altro vorrei anche aprire e chiudere una parentesi, seguite sui social i racconti quotidiani o quasi quotidiani della gang del pensiero perché sono anche molto divertenti rispetto ad uno spazio di libri catalani che voi proporrete e proponete diciamo al pubblico per martedì e qui ci sono anche voi diciamo in base agli acquisti diciamo di libri sarete lì a donare delle rose, insomma è bellissimo poter raccontare l'amore per la lettura e per i libri anche attraverso questa forma diciamo legata anche ai fiori, lo so che può sembrare retorico e banale, ma in questo tempo forse abbiamo bisogno anche di queste piccole cose, no? è un simbolo grandioso per noi la rosa che vuol dire passione che è la passione dei lettori nostra che ci anima in questa cosa abbiamo un tavolo con libri tradotti da scrittrici e scrittori catalani sia per adulti che per bambini proprio per rafforzare questo gemellaggio che c'è con Barcellona poi l'altra cosa che quest'anno, l'altra cosa molto importante è che quest'anno il tema della giornata è la lettura ad alta voce condivisa quindi una cosa così intima come la lettura che si apre a questa dimensione invece di condivisione a parte l'utilità che da sempre è stata dimostrata del leggere da subito ai bambini ad alta voce per sviluppare tutta una serie di potenzialità, di capacità ma anche proprio per me è importante il momento della condivisione della lettura in cui c'è l'incontro, il confronto con gli altri perché come sai benissimo Francesco la libreria per me è sempre stata una scusa per incontrare le persone per cui figurati il 23 aprile cerchiamo di far venire tutte le persone in libreria a fiumi ma soprattutto ci saranno tante iniziative per esempio le scuole al mattino a scuola senza zaino che usciranno dai loro luoghi e si riverseranno nella città dove condivideranno letture ed esperienze fatemi dire soltanto una cosa Andrea intanto apro e chiudo ancora un'altra parentesi noi qui sapete benissimo per se ci seguite quotidianamente parliamo moltissimo di librerie lo diciamo sempre, sono presidi di democrazia Andrea Bertelli è uno di quelli che insomma anche nei suoi racconti dei libri anche per i più piccoli diciamo ha una passione debordante questo lo dico perché l'ho visto in azione, lo conosco è un librario appassionato però voglio a proposito della lettura ad alta voce vorrei anche chiamare Andrea a raccontarci anche un po' meglio quello che succede il 23 aprile, il pomeriggio alle 4 e mezza perché insomma usando anche un linguaggio molto molto giovane tra virgolette, voi farete un open mic letterario è bellissimo la definizione un microfono a disposizione di qualsiasi lettore che voglia usarlo per leggere ad alta voce un breve racconto una poesia, il brano di un libro o il frammento di una storia che lo rappresenta i lettori diventano i protagonisti alla gang del pensiero è questa l'idea questa come dice VT to open mic che è una cosa molto giovane, molto trendy si sarà anche in altre librerie lo faranno anche in biblioteca diamo uno spazio ai nostri clienti ai nostri lettori in cui possono in 2-3 minuti leggere un racconto uno stralcio di un romanzo qualcosa che sentono che li rappresenta molto ed è una cosa così appunto la condivisione di cui parlavamo prima tra l'altro noi lo faremo al td dalle 4 e mezza in poi però c'è un momento alle 17 in cui tutte le librerie nelle case del quartiere delle circoscrizioni leggeranno in contemporanea alcuni brani tratti da un libro di Agota Christof l'analfabeta quindi è una cosa anche molto potente questa qua di fare una cosa tutti insieme nello stesso momento una cosa lasciamolo dire una cosa di pace di veramente di condivisione di fratelli che in questo momento è molto importante è molto importante dare un segnale in questa direzione il giorno prima ci sarà invece l'inaugurazione l'unica cosa che c'è il lunedì e che mi preme segnalare ci sarà l'inaugurazione alle 16 la biblioteca civica Calvino con un intervento proprio sulla lettura ad alta voce sarà proprio l'inaugurazione e poi il giorno dopo invece ogni luogo declinerà come desidera come vuole noi abbiamo anche un appuntamento alla sera per esempio alle 21 ci sarà uno spettacolo di Marco Ballestracci tratto dal suo libro preludio e fuga di Riccardo Clement una bellissima storia vera di una fuga di esisti attraverso il Trentino nel secondo dopoguerra una storia che molti non conoscono ma che Marco Ballestracci è uno scrittore di Castelfranco Veneto abilissimo oratore un narratore di storie per cui invito tutti anche alla sera a venire ad ascoltarlo preludio e fuga di Riccardo Clement di Alfabeta Verlag Edizioni esatto Alfabeta Verlag Edizioni infatti questo elemento è interessante l'elemento anche della cultura come strumento di pace insomma anche qui diciamo si parla pochissimo di pace è un tempo davvero pieno diciamo di guerra da tutti i punti di vista per cui tu come libraio diciamo immagino che sia completamente immerso dentro questo diciamo questa proposta diciamo che è un'alternativa è una diciamo per fortuna è un'arma spuntata quella della pace per la quale si usa lo strumento della cultura per raccontare la possibilità dello stare insieme no Andrea? Assolutamente noi ci crediamo da sempre nel lavoro che facciamo nelle ricadute anche che le nostre attività che sono commerciali hanno comunque sui territori creano veramente delle comunità intorno è significativo che quest'anno la festa del libro Torino che legge sia una giornata sola mentre gli altri anni si faceva la settimana della lettura è un segno che se c'è da tagliare da qualche parte la cultura diciamo è il primo posto in cui si va a mettere le mani quest'anno sarà per noi librerie perché ci sono stati dei tagli anche a livello di fondi per le biblioteche con cui stavamo collaborando sono finiti un po' di un po' di di rapporti diciamo così anche per scelte politiche diciamolo pure quindi noi siamo qui facciamo il nostro lavoro cerchiamo di fare rete con tutte le realtà è un lavoro quotidiano faticoso che nel 23 aprile trova proprio la sua massima espressione però ci sarebbe bisogno di investire davvero tanto in questo campo in questo settore che dicevi tu mette le basi per una maggiore comprensione del mondo e di se stessi e quindi insomma lavoriamo anche per questo e Torino che legge a un elenco di biblioteche librerie scuole laboratori di lettura enti associazioni editori che si mobilitano per questa bellissima giornata rispetto al diciamo alla lettura ad alta voce alla festa mondiale del libro e del diritto d'autore siamo quasi in chiusura Andrea ma volevo chiederti rispetto parlavi di tagli poco fa ma ci interessa anche qui da questi microfoni spesso come dire qual è l'andamento diciamo anche del mercato dal tuo punto di vista ovviamente perché mi sembra che in ogni caso di lettori ce ne sono sempre abbastanza siamo sempre qui a piangere miseria in un paese che non legge però posso dire dal lettore anche frequentando diciamo la tua libreria che insomma di lettori ce ne sono abbastanza o so che abbastanza non vuol dire niente però insomma Andrea tu che dici ma noi siamo realtà privilegiate come osservatorio del fatto che ci siano tanti lettori sicuramente ci sono tanti lettori però sicuramente in questo momento tra l'aumento dei costi non voglio scendere nei dettagli economici ma tra l'aumento dei costi fatto che le persone hanno meno soldi a disposizione i libri la lettura sono fra i primi campi che vengono un po' tagliati anche dalle famiglie se vuoi e quindi noi siamo impegnati ad inventarci sempre qualcosa di nuovo creare iniziative creare delle forme di aggregazione per far venire le persone in libreria per promuovere la lettura tutti i giorni è la nostra mission diciamo e quindi Torino che legge si inserisce benissimo in questo nostro lavoro in questa nostra passione perché ricordo ancora una volta la questione delle rose che vengono donate è proprio un simbolo fortissimo donare un libro donare una rosa nella festa mondiale del libro dei diritti d'autore il 23 aprile e ricordo ancora il sito www.torinochelegge.it su cui c'è un programma ricchissimo andate a pescare nelle librerie nelle vostre case del quartiere nelle associazioni nelle biblioteche le biblioteche si stanno reinventando anche loro con grandissimi progetti e quindi lavoriamo tutti quel giorno ma tutto l'anno nella stessa direzione giornata mondiale del libro e del diritto d'autore 2024 festa di San Giordi anche a Torino per Torino che legge alla gang del pensiero dove hanno promesso nel loro racconto quotidiano che con i libri insomma regaleranno rose e anche baci e questo non guasta mai intanto allora Andrea Bertelli siamo davvero in coda io ti ringrazio moltissimo per averci dedicato dentro il pieno della tua attività nella libreria la gang del pensiero a Torino un pezzo diciamo del tuo tempo per raccontarci questa iniziativa grazie ancora speriamo di incontrarci presto allora buona giornata Andrea grazie 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 grazie